Nata a Roma nel 1992. Debutta giovanissima come attrice nel ruolo di Chiara. Una delle protagoniste del film Il più bel giorno della mia vita. 2002. Diretto da Cristina Comencini. Nel 2004 è nel cast del film francese La scoperta del mondo di Ivan Tayeb. Dove è coprotagonista nel ruolo di Carlotta. In televisione appare per la prima volta nel 2003. Interpretando lo ruolo di Caterina nella miniserie TV Il Papa Buono. Regia di Ricky Tognazzi. E successivamente nel ruolo di Lucy Nincantesimo 6. Entrambe Fiction TV di Rai 1. Nel 2008 interpreta il ruolo di Lorella in una puntata della serie televisiva di Canale 5. R.I.S. 4 Delitti imperfetti. Nel 2009 ritorna sul grande schermo con i film J.S.W.S. Venu Purelle. Anch'esso diretto da Ivan Tayeb. E il compleanno. Regia di Marco Filiberti. Nel 2012 interpreta Annalisa nel docufilm Young Europe. Regia di Matteo Vicino e prodotto nell'ambito del progetto Igaro. Per la sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. Nel 2013 interpreta il personaggio di Flavia. Nella miniserie Rosso San Valentino.